One, two. Signore e signori, benvenuti al Cocoricò. Questa è una serata speciale per due motivi. Il primo è un motivo storico legato alla musica Tecno. Questa serata si intitola Memorabilia e i DJ Resident, Saccoman e Cirillo, vi proporranno le Hit Tecno che dal 1990 a oggi hanno contribuito a creare il mito della piramide. Memorabilia è una serata dedicata anche a Cirillo, di cui oggi è il compleanno. Comincia questa console Memorabilia del Cocoricò, il DJ Saccoman. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.